Per favore, non perda tempo con una visione del mondo così... scadente. Formate copie nuove, da persone che non si conoscono. Ricordate, non accontentatevi. Non accontentiamoci, no? Non accontentiamoci. Allora, piacere. Fausto Biasutti. No, non ci credo. Anch'io mi chiamo Fausto. Veramente? Sì. Ma lei ce la vede qui, la conquista del vuoto? Ma quella... non è la nostra corriera. Abbiamo deciso di mettere una bella sauna. Mamma, io voglio la mia Camera Oscuro, non voglio fare la sauna con Arturo. Ah, ma Fausto, è per la nostra salute. Guardi qui. Erede unico. Ma scusi, perché non viene anche lei? Quella lì che pianta è. È un raro caso di quiescenza. Non cresci e non muori. È come me. Eccoci qua. Che meraviglia. Presto saremo autosufficienti. Sarà una grande avventura. Questa birra è veleno. E allora facciamola noi. Però che bel buio. Signora Gino! Ti vendi la casa? La nonna Adele diceva sempre... Diceva sempre che sei un mona. Va via, mona. Torna a Roma, mona. Il trattore! Il trattore! Lei è ossessionato da cose che neanche conosce. Qui dentro, alla sera, non si vede un cazzo! Scrivete il reddito che avete dichiarato. Quello giusto. Perché Dio vi vede. E c'era vederti, Atos. Mi dici che cazzo vuoi?